I miei figli hanno detto che hanno seduto il botto e è stato molto forte. Hanno tremato i vetri, ha detto, quindi sicuramente è stato molto molto violento. Lo schianto violento contro il ponticello di cemento è stato avvertito a centinaia di metri di distanza. Nulla ha potuto fare l'equipaggio del suo M118. Troppo gravi le lesioni riportate per poter salvare la vita Silvio Bernardi, giovane padre di 39 anni. Il terribile incidente è accaduto alle 23 lungo via Sant'Elena a Silea. La vettura stava procedendo in direzione di Roncade quando, di fronte ad un colorificio, è uscita dalla careggiata. Non ci si spiega come mai il giovane padre abbia perso il controllo della sua autovettura, forse un improvviso malore o una distrazione. Che abbia perso il controllo praticamente, abbia lasciato andare la macchina e che sia finita nel fosso. Sullo schianto, indaga ora la polizia stradale di Vittorio Veneto, gli agenti hanno dovuto bloccare la strada per lungo tempo per riuscire ad effettuare tutti i rilievi del caso e per scongiurare l'ipotesi di una possibile collisione con un altro mezzo. Ho sentito i rumori poi dei mezzi che recuperavano l'auto fino a tarda notte, almeno fino alle 3-4 di notte. Silvio Bernardi lascia la moglie Nadia e due bambine di 5-6 anni. Una tragedia nella tragedia perché la vittima di questo incidente stradale è un giovane papà, un giovane marito e quindi c'è lo strazio di un'intera famiglia a cui si aggiunge proprio il dolore di tutta la comunità. Il 39enne, originario del veneziano, era molto conosciuto per essere il titolare dal 2020 del locale La Porchetteria a Mirano e per aver gestito altri bar nella marca. Con la famiglia viveva da alcuni anni a San Cipriano di Roncade. Grazie a tutti.